a bologna ragazzi vado a bologna a bologna parto adesso così senza niente senza niente facciamo gli rl tutta la notte allora dono poco perché sono picchio ma vorrei la laiva bologna grazie 20k almeno ma risposto noi mi ha risposto noi mi quella con cui doveva andare a fare ape vediamo 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 no mi scammano queste mi scammano mi scammano andiamo a bologna ragazzi andiamo a bologna andiamo a bologna voglio andare a bologna grazie per i quattro mesi e i sams sono quattro dai spero qualcuno li doni vediamo ragazzi io sono qua qua va in centrale il tram perfetto a qua va in centrale inizio di aspettarlo se quando arriva nessuna donate di simila bizzo non lo prendo arriva fra quanto fra è in arrivo è in arrivo ragazzi miei è in arrivo vediamo che dobbiamo fare se no rimaniamo a milano easy mentre se andiamo a bologna staccherò fra una mezz'oretta barra e in più facciamo live sera la bologna ragazzi live sera la bologna tu gabrie porca misera questo questo significa impegnarsi porca oggi ero carichissimo scusate mi sta arrivando il tram sta arrivando il tram mi sa che è ragazzi aspettiamo grazie dario nencini per i cento ti voglio bene se qualcuno lo fa adesso non lo prendo adesso quanto arriverà anche fra dieci minuti se qualcuno arriva io parto per bologna ragazzi no cap sono cap signori miei no capping mai mai let's go andiamo a bologna scusate scusate let's go milton essere ancora qua il tramfermo questo è il destino si parte si parte si parte oh scusi caro si parte signori miei si parte signori miei scusate scusate